Testo terribile, quindi dovremo entrarci con prudenza, con pazienza, però confido con un grande profitto, un grandissimo profitto, vi assicuro, una rilettura che potrebbe suggerire cose che finora su Bruno sono state poco viste o non viste del tutto. Beh, cominciamo intanto dal titolo che presenta qualche incertezza fra gli interpreti, cioè dell'infinito universo e mondi, qualche d'uno lo legge con una virgola e qualche d'un altro no, io sarei per quelli che lo leggono senza virgola, cioè mi spiego, qualche d'uno dice no ma lì è caduta una virgola nella composizione, il testo originario ha qualche, come capita, refuso, e quindi legge dell'infinito, virgola, universo e mondi. No, io penso che sia più ragionevole proprio levare la virgola che non c'è nel manoscritto originario, quantomeno nella stampa originaria, dell'infinito universo, quindi dell'infinito universo, e questo è il grande tema, e mondi, perché questo è un testo che sostiene l'infinità dei mondi, cosa non nuovissima, intendiamoci questa, però nel modo in cui la presenta Bruno certamente significativa. Ecco, il fulcro della nostra serata è appunto questo testo, ma a questo testo noi dobbiamo arrivare con qualche, diciamo, introduzione, passo introduttivo. Intanto vi ricordo i sei dialoghi che Bruno pubblicò a Londra nel 1584-1585, lui era a Londra come accompagnatore dell'ambasciatore del re di Francia, col quale Bruno era entrato in dimestichezza, nella sua vita avventurosissima, adesso non vi sto a raccontare la sua vita perché andremo avanti tutta la serata, comunque a Parigi, Bruno era uno che, insomma, immediatamente o gli eri amico o gli eri nemico, insomma, no? E se gli eri amico, gli eri tanto amico, no? E lui catturò il re di Francia che si entugia a sbodi, lui lo mandò alla Sorbona a predicare contro, a far lezione contro gli aristotelici e lo stessa funzione poi lui svolse a Londra e a Oxford contro gli aristotelici di Oxford, al seguito dell'ambasciatore di Francia in Inghilterra e alla corte della grande Elisabetta. Una corte, lo ricordo sempre con una certa, come dire, insistenza, perdonatemi, dove era normale parlare italiano, dove le persone colte parlavano italiano e dove l'inglese era considerato una lingua di barbari, come cambiano le cose. Per carità, soprattutto l'inglese degli inglesi è una bellissima lingua. Allora, i sei testi sono la cena delle ceneri. Già parlamo qui della cena delle ceneri parecchio tempo fa e stasera vi farò un breve riferimento. La cena delle ceneri è l'esaltazione di Copernico, la scoperta di Copernico da parte di Bruno e la sua totale adesione alla rivoluzione copernicana che rovesciava totalmente la cosmologia antica e classica e che andava in rotta di collisione con la struttura aristotelica del cosmo, così come per secoli e secoli si era immaginato che fosse il mondo con la Terra al centro, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo la cena delle ceneri abbiamo i due testi della rivoluzione cosmologica bruniana, che sono un'altra cosa. È troppo facile dire Bruno è stato l'ambasciatore del copernicanesimo, è stato il filosofo del copernicanesimo, sì, certo, si può dire, ma è stato molto, molto di più. E lui lo sapeva benissimo, cioè ha portato la intuizione copernicana ad una rivoluzione cosmologica assolutamente incredibile e questa sera io sono qui per darvene, come dire, testimonianza e documento, qualche cosa che attinge la nostra attualità, non soltanto profeta di un'età, no, no, non è solo profeta, è qui che parla e pensa con noi. E a questo sono dedicati due testi appunto fondamentali della causa principio et uno, della causa principio et uno e il nostro, dell'infinito universo e mondi. Poi ci sono i tre dialoghi invece finali del gruppo di sei che sono dedicati diciamo alla morale, alla società, anche alla politica se si vuol vedere così, lo spaccio della bestia trionfante, la cabala del cavallo pegaseo e più famoso di tutti degli eroici furori. Bene, prima di entrare in della causa principio et uno che ci servirà come piedistallo per poi arrivare al nostro testo, io vorrei però richiamarvi una pagina, mezza pagina, famosissima della cena delle ceneri, dove appunto Copernico celebra, siamo in due, siamo troppi, dove Bruno celebra Copernico, è una pagina famosissima, è di una potenza, ecco il linguaggio di Bruno, voi lo sapete molto bene, è un linguaggio del seicento del rinascimento, diciamo meglio, italiano meridionale, napoletano sostanzialmente, è molto lontano dal volgare che noi siamo usi frequentare che invece ha tutt'altre radici, quindi c'è qualche difficoltà forse, io cercherò di andare ad agio nella lettura, però credo che si comprenda e soprattutto notate la potenza, la forza, perché Bruno era uno scrittore, autore anche di una celebre commedia, eccetera, eccetera. Ecco, ora qui Bruno sostanzialmente, sostanzialmente prende spunto da Copernico e lo immagina come colui che ha dissolto l'immagine dei cieli che circondano la terra di aristotelica memoria, le famose muraglie le chiama lui, ha distrutto queste muraglie fantastiche, fantasiose mai esistite in realtà e si è proiettato nell'infinito, e si è proiettato nel cielo infinito, ma in realtà è lui che fa questo, no? In realtà lo spunto Copernico si era, diciamo, limitato, forse non è la parola giusta, insomma aveva incentrato il suo interesse nel mostrare che gli stessi fenomeni che noi osserviamo immaginando che sia la terra al centro del mondo e intorno a tutto quello che vediamo, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, eccetera, eccetera, che la stessa osservazione si poteva spiegare esattamente al contrario immaginando che non fosse così, che fosse eliocentrico il sistema, che il sole fosse al centro, eccetera, era ovviamente una rivoluzione grandiosa, già nell'antichità per la verità una scuola pitagorica, Filolao, eccetera, avevano immaginato qualcosa del genere ma non ne avevano dato matematica dimostrazione, mentre Copernico ne dà una impeccabile dimostrazione e questo certamente ha segnato il destino della modernità, cioè da quel momento è cambiato tutto, voi capite, sta ancora cambiando tutto, noi non siamo ancora all'altezza, in verità, della rivoluzione copernicana che deve comportare una rivoluzione metafisica, una rivoluzione fisica, una rivoluzione morale, una rivoluzione politica che sono soltanto in cammino, ma nonostante ciò in realtà Bruno va molto al di là, cioè prende spunto dalla rivoluzione copernicana che qualche uno dice magari matematicamente non la capiva neanche tanto, è probabile che non fosse molto competente negli aspetti tecnico-matematici della teoria copernicana, ma ne aveva intuito la possanza, come direbbe Dante Alighieri, la potenza, la grandiosità delle prospettive nuove che metteva di fronte allo sguardo umano. E questa è una mezza pagina che appunto celebra questa inaudita novità e dice ora ecco colui che ha varcato l'aria, che ha penetrato il cielo, discorse le stelle, discorse cioè che è passato attraverso tutte le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglia delle prime ottave, nonne, decime, d'altre che vi s'avessero potuto aggiungere sfere, famose sfere cristalline, infrante, non esistono, sono superstizioni, solo immaginazioni. Per relazione devani matematici è cieco veder di filosofi volgari, quando dice filosofi volgari intende Aristotele i suoi seguaci, ma non intende volgari nel senso di cattivi intende volgari del mondo pagano, del mondo non cristiano. Così, al cospetto di ogni senso e ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, aperti quei chiostri della verità, aperti questi, i chiostri della verità sono i corpi celesti, aperti questi chiostri, rotte le muraglia si vedono i corpi celesti in tutt'altro modo, non sono le stelle fisse, ficcate dentro una specie di grande ruota che gira, non è questo, no, siamo slanciati nell'infinito tra fuochi infiniti, tra infinite vestigie appunto, aperti quei chiostri della verità che da noi aprirsi possiano, nudata la ricoperta e velata natura, questo è un tema su cui Bruno insiste, dal coperdicanesimo in poi, la natura che era stata coperta, ricoperta di pregiudizi, di errori, di vaneggiamenti, come ha detto, si è finalmente, come dire, spogliata di tutti questi errori e si presenta nella sua splendida nudità, no, riscoperta, la nuda, la vera natura, no, ha donato gli occhi alle talpe, illuminati i ciechi che non possiam fissare gli occhi a mirare l'immagine sua in tanti specchi che da ogni lato gli si opponono, quindi, adagio perché questo è un passaggio per noi importante, quindi la ricoperta e velata natura ha donato questo costui, no, che ha varcato l'aria, ha penetrato i cieli, ha ridato gli occhi a quelli che non vedevano più, ha illuminato i ciechi e ha fatto sì che i ciechi potessero mirare la loro immagine, l'immagine sua, in tanti specchi, le stelle diventano tutti gli specchi della terra, la terra si rispecchia in tutti i corpi celesti, si vede riflessa in tutti loro, come vedremo dirà, tutti loro si vedono riflessi con la terra, sciolta la lingua ai muti che non sapevano e non ardivano a esplicargli intricati sentimenti, rinsaldati i zoppi che non valevano far quel progresso con lo spirito che non può farli ignobile e dissolubilo composto, le rende, ecco, questi corpi celesti, le stelle, gli specchi, le rende non meno presenti che si fossero propri abitatori del sole, della luna ed altri nomati astri, ecco l'intuizione, rende presenti tutti i corpi celesti come se noi fossimo abitatori di tutti i corpi celesti, si sta lavorando per andare su Marte, come se noi fossimo abitatori di tutti i corpi celesti, dimostra quanto siano simili, maggiori quei corpi o peggiori che veggiamo lontano a quello che ne ha presso e da cui siamo uniti e ne apre gli occhi a vedere questo nome, questa nostra madre che nel suo dorso ne ha alimenta e ne nutrisce dopo averne prodotti dal suo grembo al qual di nuovo sempre ne riaccoglie e non pensare oltre a lei essere un corpo senza alma e senza vita. Ritorna la terra, la terra nutrice, la terra che ci accoglie, che ci produce, ci accoglie nella morte e che nello stesso tempo in questa sua attività di nutrizione della nostra stessa vita indica che tutti i corpi dell'universo, tutti i corpi dell'universo non sono privi di anima e di vita, sono tutti animati come la terra è vivente. Ecco questa introduzione ovviamente è un'introduzione molto significativa, uno che parla così è uno che ha una profezia, una profezia, una profezia così significativa per la quale non gli sembrò alla fine troppo duro morire nel modo in cui è morto, qui ebbe il coraggio, la forza di dire io non so di che cosa mi devo pentire, non ho da pentirmi, non so di cosa dovrei pentirmi, non mi voglio pentire, fate quello che volete, siete molto più preoccupati voi di quello che farete a me, di quello che sia preoccupato io, mi aveva ragione perché era diventato un problema serio quello di Giordano Bruno, di questo sapiente che era certamente, adesso vedremo, troppo al di là dell'ortodossia cattolica di quel tempo. Ma allora detto questo andiamo a della causa principio et uno, non si può passare all'infinito universo e mondi se non si fa un passaggio intermedio in della causa principio et uno, sono due dialoghi praticamente gemelli, si cita, lui cita, nel secondo cita anche il primo e compiono un cammino diciamo continuativo e parallelo, stabiliscono alcune cose fondamentali e si illuminano reciprocamente e come dire preparano un salto al quale dobbiamo prepararci anche noi, con pazienza e con diciamo lungimiranza. Allora il testo capitale del nuovo infinito è già della causa principio et uno e ha al suo centro, ecco questo è il punto fondamentale, ha al suo centro una innovazione straordinaria, poi vedremo che non è così totalmente nuova e questo è molto interessante, un'innovazione straordinaria che non sta, vedete come per lo più voi leggerete se vi interessa l'interpretazione di Bruno come filosofo neoplatonico, certo che Bruno è certamente un filosofo neoplatonico, certamente il suo ideale, il suo modello è Cusano, Nicola Cusano è un grande filosofo neoplatonico tedesco eccetera, molte idee di Cusano, Bruno le fa proprie eccetera, però questa è una lettura sviante perché si continua a insistere su un aspetto che è innegabile ma che è sviante perché preso da sé appunto non è esattamente quello che noi dobbiamo capire, l'aspetto innegabile sul quale si insiste è, l'abbiamo già letto, l'animazione universale, l'universo mondo è come dire abitato dall'anima di Dio, di un Dio immanente al mondo ben inteso, questo era uno dei primi problemi che Bruno ebbe con l'inquisizione, perché il Dio dell'inquisizione è un Dio trascendente che crea il mondo come altra cosa da sé, il Dio di Bruno è un Dio immanente al mondo, è una energia del mondo, è una attività spirituale che penetra ogni corpo e lo assimila alla espansione infinita dell'attività di Dio, questo è tutto vero ma non è questo il punto, il punto ulteriore è che in Bruno c'è un concetto assolutamente nuovo, inaudito, inconcepibile, di materia, è il concetto di materia che è completamente nuovo rispetto alla tradizione, la materia aristotelica come si sa è la possibilità della forma, la materia è come dire, è come la cera, poi sulla cera io metto la forma, il buon Dio imprime le forme eterne che sono le idee di Platone, quello che volete, si imprime la forma sulla materia, la materia è questa indeterminatezza originaria, è questo non essere in fondo, questo caos, questo luogo non ancora definito, questa nutrice prima, diceva anche Platone. no, in Bruno non è così, Bruno già in della causa dice che la materia è il principio primo di tutta la realtà, che la materia è il principio primo di tutta la realtà, è chiaro che l'inquisizione lui faceva tre salti per aria, contro Aristotele e anche al di là di Cusano naturalmente, perché alla materia Bruno applica quei due concetti che prende da Cusano, che sono bellissimi, della implicazio e della explicazio, cioè Cusano nella sua visione dell'infinito mondo, perché prima di Copernico già Cusano aveva l'intuizione di un mondo infinito, diceva in ogni punto c'è Dio che si è rinchiuso, e questo è Dio rinchiuso in una penna, per dire paradossalmente, è la implicazio dei, ma tutto il mondo poi è la explicazio dei. E già, ma Bruno dice sì, questa è la materia, questa è la materia di cui tutte le cose sono fatte. Chiama la materia infinito principio vivente e onnipotente. La materia è di una modernità, voi capite, no? Sembra che parli un fisico di oggi, dopo ci arriveremo. La materia è un infinito principio vivente e onnipotente, è la energia formatrice di ogni cosa, quindi la materia è vivente. La materia è attiva, non è passiva, come pensa Aristotele. La materia è qualcosa che agisce, qualcosa che produce, qualcosa che esce da sé per entrare nelle infinite forme. E attenzione, perché qui bisogna, è sottile la questione, la materia, dice ancora, sto riassumendo il primo dialogo della causa, la materia non è né corpo né spirito, perché è tutte e due. Non è né corpo né spirito, ma l'origine di entrambi, cioè della loro estrema contrazione e della loro estrema dilatazione. Proviamo a capirci con degli esempi, scusate, un po' scemi, ma per rendere facile, intuibile la cosa. Allora, che cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa? Che cos'è questo corpo? Allora lui dice, è certamente generato dalla materia, generato dalla materia nelle due polarità estreme, per cui la materia può essere corpo e spirito. Corpo in quanto l'attività spirituale della materia si è tutta concentrata qui, ma anche nello stesso tempo spirito, perché questa cosa qui, come vedremo, non potrebbe mai stare qui, senza tutto il resto. Questo per ora l'abbiamo solo detto, dopo lo dovremo vedere. Per adesso cominciamo a comprendere che il restringersi del corpo sempre più piccolo, potremmo dire, ha parlato anche di atomo, di monade, Bruno, dopo gli anni di Oxford e di Londra, possiamo vedere la materia che si concentra nella estrema oscurità, dice lui, la materia che diventa l'oscurità del punto estremamente piccolo, che ha in sé tutta la potenza estrema dell'infinitamente grande. Quindi la materia che sta tra il corpo e lo spirito, che ne è la oscillazione. Ecco, questa vita, dice, si trova su questa terra, si trova in ogni cosa di questa terra, si trova in ogni creatura di questo mondo, si trova in tutti i mondi, abbiamo letto. Questo è il principio fondamentale che Bruno ha stabilito per primo nella storia dell'umanità, l'ipotesi e anzi la convinzione che tutto l'universo è fatto nello stesso modo come è fatta la Terra. Quello che si chiama principio cosmologico fondamentale, senza del quale la cosmologia non ci sarebbe. Quando i nostri cosmologi vanno a studiare i buchi neri, eccetera, immaginano sulla scorta di Bruno, ma non lo sanno, l'hanno dimenticato, ma fa niente. A partire da Bruno comincia questa grande visione, che non è vero come pensava la Chiesa, che non è vero come pensava Aristotele, che questa terra è la terra dove si nasce, si muore, si vive, come creature effimere, mentre i cieli sono eterni, mentre i pianeti sono eterni, mentre la Luna è eterna e per carità non ha le macchie. Vi ricordate tutta la questione dantesca, cosa sono le macchie? Ma è la luce, sono i vapori, perché la Luna è un corpo cristallino perfetto. Tutte balle. La Luna è come la Terra. Il Sole è come la Terra, in un tempo diverso dalla Terra. E tutti gli altri pianeti e soli e stelle e vie latte, come dice lo stesso Bruno, sono come noi, sono fatte come qui. E in questa universale vita abbiamo infiniti mondi che ripetono la nostra stessa destinazione celeste, la nostra stessa vita celeste. Allora, questo è il primo dialogo, dove la causa universale viene riferita alla materia. Secondo dialogo sempre della causa. Nel secondo dialogo, che difendeva anche Copernico, dove si diceva tra l'altro che il copernicanesimo bisogna spiegarlo ai dotti e non al popolo, che non lo può capire. Era un modo per difendersi, ovviamente, dalle persecuzioni. La causa universale è l'animazione universale. Allora, abbiamo visto, dapprima è la materia. La materia è la generatrice di tutti, è la madre di tutto. È la generatrice dell'intero cosmo. Ma l'intero cosmo ha, nello stesso tempo, un'animazione universale che è presente dappertutto in ogni parte del tutto. Approfondiremo questo punto. Adesso cominciamo a metterlo in salvo, diciamo così, a portarcelo con noi. L'animazione non è animazione che si scontra con la materia. È la stessa animazione, come abbiamo visto prima, che lavora, diciamo così, in parallelo alla materia o che è l'altra faccia della materia. Ma il punto vero è che l'animazione è dappertutto e per tutto. Non c'è punto che non sia animato. E quindi non c'è punto che sia inerte, che sia come pensava il mondo antico, pura materia, pura passività. Il mondo vive. L'universo è vivente. Oh, questa faccenda della materia, appunto, che, dicevo, è pensata come non è stata mai pensata. La materia come qualche cosa che produce, che non è inerte, che non è passiva, che non ha bisogno di una forza interna, perché è lei la forza interna nella sua animazione continua. Beh, sapete che in realtà Bruno non è il primo ad aver detto questo. Già, è una cosa che di solito non si dice, si dimentica. C'è un episodio che è significativo. Un episodio che risale però a 350 anni prima, pensate, a 350 anni prima. C'è un teologo del secolo XII, Davide di Dinan, un teologo francese, il quale scrisse una o due opere, non ce ne sono rimaste né l'una né l'altra perché sono state bruciate a rogo. Però ci sono rimaste delle citazioni, delle brevi frasi, il quale sosteneva, come Bruno, che la materia, la materia prima, diciamo così, la materia originaria di tutte le cose, precede tutte le forme, ma è il fondamento comune di tutte le forme di ogni essere, di ogni creatura. E diceva, ovviamente, è immobile, è indivisibile, è eterna, perché sono le cose che lei genera che si muovono, che si dividono, si frammentano l'una dall'altra e non sono eterne. Lei è lo zoccolo duro di ciò che è eternamente come fonte generatrice di tutte le forme. e sin qui era già un'intuizione assolutamente nuova, inedita, ma poi aggiungeva un'altra cosa spaventosa. Guarda un po', anche Dio è ovviamente immobile, illimitato, è privo di forma, ovviamente è Dio e tutte le cose. Allora voi capite questo cerchio che compieva e che compiva il grande Davide di Dinan in cui stava dicendo attenzione, Dio, forma ultima, la materia, materia primordiale, sono l'alfa e l'omega della stessa cosa, sono l'inizio e la fine di ogni cosa, sono il principio e il senso di ogni realtà. L'hanno naturalmente condannato condannato e le sue opere sono state bruciate, probabilmente diceva questa cosa nel De Tomis Id Est De Divisionibus, di cui però non sapevo, oppure nel Quaternuli, che pure è un'opera condannata, ma non ce l'abbiamo più, nel 1210 vennero bruciate a Parigi. Bene, dopo 350 anni troviamo pensieri molto affini a Giordano Bruno, come ve la spiegate? Come ve la spiegate? Beh, questa è una parentesi che sto facendo, ma è una parentesi importante. Bruno venne condannato sin da quando era dentro il suo primo convento a Napoli, perché stava facendo la strada del monaco cristiano, diciamo così, no? Venne condannato perché teneva libri proibiti nascosti sotto il letto, tra cui Erasmo. Forse aveva anche Davide di Dinano, forse, non lo sapremo mai. Certo, i suoi superiori lo 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 rimproverarono moltissimo, poi lui scappò, non ne poteva più, ma questo che cosa significa? 350 anni dopo, signori, questo significa che attraverso tutto il Medioevo e ancora il Rinascimento la storia che noi raccontiamo è la storia delle cose che si sanno, che erano ufficiali, che erano come dire legittime, lecite, che si potevano leggere, stampare, distribuire. E questa è una cultura. Poi ce n'è un'altra che sta sotto, nascosta, che attraversa i secoli, che ci si passa mano per mano, che ci si traduce bocca orecchio. E' andata così, capite, per secoli e secoli la cultura che era contraria alle istituzioni ecclesiastiche, al potere costituito, non si poteva stampare, non si poteva rendere pubblica, ma aveva tenacissima. E' come la cultura, una cultura orientale fatta dalle donne, questa è una storia bellissima da raccontare, le donne che si sono inventate una loro scrittura con la quale si scambiavano lettere senza essere scoperte dai loro mariti, fratelli, eccetera, padri, anche perché si erano inventate questa scrittura che non leggeva nessuno e sono andati avanti per secoli a comunicare così, no? Attraverso i tempi, questa è una storia meravigliosa. Bene, in Europa, in Occidente, questo è accaduto per secoli e, badate, accadrà lo stesso Bruno. quando Bruno verrà bruciato in campo dei fiori e le sue opere tutte scomunicate e le sue opere tutte gettate nel rogo, trovare un'opera di Bruno non era mica facile. Parlare di Bruno era sconsigliabile, anzi, era proprio sconsigliato, era proprio meglio non farlo, oppure si poteva farlo solo una condizione, quella che ha patito anche Spinosa. si poteva citare Spinosa dicendo quell'ebreo scellerato di Spinosa però dice questa cosa che in fondo non è poi così cretina. E lo stesso si poteva fare di Bruno, no? Questo uomo scellerato, questo uomo che ha distrutto la fede dei suoi discepoli e poi però passavano, lo stesso Bruno è andato avanti per secoli a continuare la sua esistenza nascosta, no? Proibita. Spinosa lo conosceva benissimo ma non soltanto Spinosa è andato avanti attraverso i secoli attraverso la cultura libertina attraverso la cultura dei Rosa Croce attraverso la cultura delle grandi opposizioni al potere costituito del re e del clero diciamo così, no? Quindi ad associazioni che hanno creato la modernità perché per molto tempo non si poteva citare Bruno non si poteva far vedere che si erano letti i suoi scritti nascostamente ottenuti di qua o di là prestati trascritti ma a casa propria beh e lo stesso è successo con Davide di Dinan evidentemente, no? Non è possibile che siano così vicine queste due cose senza che un eco non sia arrivata anche a Bruno. quindi in sostanza a partire da Davide di Dinan ma poi in Bruno in maniera esplicita anche perché di Davide di Dinan non sappiamo più nulla la materia è un essere divino generatore o generatrice e madre di tutte le cose. Voi capite che è una rivoluzione di una grandiosità straordinaria, no? Quasi inconcepibile per quei tempi. Quarto dialogo la materia è un sostrato indifferenziato è certo perché è ciò di cui sono fatte tutte le cose quindi non è mai una cosa è tutte le cose nella loro varia differenziazione è sostrato lui indifferenziato che precede tutte le cose che contiene tutte le cose è un contenente universale da cui tutte le cose vengono per così dire partorite noi siamo fatti di questo secondo Bruno noi siamo fatti di questo ma anche questa tavola è fatto di questo anche questo bicchiere è fatto di questo nelle sue infinite modificazioni nelle sue infinite forme spirituali diciamo così che sono le forme che la materia assume nella sua generatività infinita quinto dialogo ecco il quinto dialogo questo non vi dico nulla di specifico ma soltanto una cosa generale il quinto dialogo attraverso un lungo dialogo appunto si ferma a riflettere si ferma a riflettere e sostanzialmente dice ma se le cose stanno così non entriamo in una contraddizione gravissima con il senso comune un mondo descritto così un mondo che diciamo non può che essere così per delle ragioni profonde che cercheremo di rendere chiare un mondo così non urta contro i nostri concetti tradizionali che questa è una cosa questa è un'altra cosa che la materia non genera ma è generata che le sostanze sono individuali e non è vero che tutto è in ogni punto dell'universo e che ogni punto dell'universo è in tutto l'universo come si può pensare una cosa così e allora in questo ultimo dialogo della causa Bruno ci mette di fronte ai paradossi fondamentali della cosmologia ai paradossi ai paradossi fondamentali della cosmologia moderna se noi assumiamo il principio dell'infinito e universo se noi cominciamo a pensare davvero ma l'abbiamo mai pensato davvero abbiamo mai davvero fermato il pensiero su questo pensiero abbiamo mai pensato che in fondo l'universo è infinito potrebbe essere infinito ma se davvero l'universo è infinito come possiamo continuare a pensare come prima allora vi leggo un passaggio di della causa principio Fietuno dove sono indicati alcuni dei paradossi alcune delle contraddizioni ma date sono contraddizioni e paradossi che non ci hanno lasciato nemmeno oggi che non ci hanno per così dire abbandonato neppure nei nostri giorni è una breve lettura ma molto significativa e dopo passiamo finalmente al nostro testo allora ecco qua della causa principio Fietuno questo universo infinito no? questo universo che noi pensiamo infinito anche perché credete che si possa pensarlo finito finito circondato da che? limitato da che? con quale confine appunto e cosa c'è dopo il confine oltre il confine quindi è una ineluttabilità che si è infinito ma attenzione questo universo infinito non si muove localmente perché non ha cosa fuori di sé dove si trasporta atteso che sia il tutto atteso che in questa lingua vuol dire dal momento che eh dal momento che è il tutto chiaro no? già Parmenide aveva intuito qualcosa del genere no? anticamente ma era un universo finito quello di Parmenide non infinito allora se è infinito dove deve andare? da nessuna parte non ha altra parte dove andare quindi è fermo ma è difficile pensare che l'universo è fermo è difficile negare che sia che sia invece in movimento che non sia fermo non si genera è ovvio perché non è altro essere che lui possa desiderare o aspettare atteso che abbia tutto l'essere ha tutto l'essere che c'è come potrebbe generarne altro non si corrompe perché non è altra cosa in cui si cange si cambi atteso che dato che lui sia ogni cosa quindi non può trasformarsi le trasformazioni avvengono dentro l'universo ma non sono dell'universo l'universo non si trasforma nonostante le trasformazioni non può sminuire non può crescere atteso che è infinito appunto a cui come non si può aggiungere così e da cui non si può sottrarre perciò che lo infinito non ha parti proporzionabili non è fatto di parti non possiamo aggiungere delle parti non possiamo togliere delle parti non è alterabile in altra disposizione perché non ha esterno da cui patisca e per cui venga in qualche affezione se nell'infinito non si trova differenza come di tutto e parte e come di altro e altro certo allora l'infinito è uno sotto la comprensione dell'infinito non è parte maggiore parte minore non c'è di più o di meno rispetto all'infinito perché alla proporzione dell'infinito non si accosta più una parte quanto si voglia maggiore che un'altra quanto si voglia minore un chilometro non è più di un millimetro rispetto all'infinito e però e perciò nell'infinita durazione nell'infinito durare nell'eternità dell'universo non differisce la ora dal giorno il giorno dall'anno l'anno dal secolo il secolo dal momento perché non sono più gli momenti e le ore che gli secoli e non hanno minor proporzione quelli che questi all'eternità non sono non sono proporzionalmente più o meno rispetto all'eternità rispetto all'eternità un'ora un anno fanno lo stesso similmente nell'immenso non è differente il palmo dal stadio il stadio dalla parasanga stadio palmo e parasanga erano misure dell'italia meridionale palmo c'era anche nell'italia settentrionale con qualche differenza di valore il palmo nell'italia meridionale era zero lo sto leggendo non lo so a memoria zero 0264 a Genova era 0248 la parasanga non ne so niente però erano misure insomma allora in uso perché alla proporzione della immensitudine non più si accosta per le parasanghe che per i palmi ovviamente sono due palmi più vicino all'infinito non ha senso sono tre parasanghe più vicino non ha senso dunque infinite ore non sono più che infiniti secoli e infiniti palmi non sono di maggior numero di infinite parasanghe alla proporzione similitudine unione identità dell'infinito non più ti accosti attenzione con essere uomo che formica una stella che un uomo perché a quello essere non più ti avvicini con essere sole luna che un uomo o una formica è però e perciò nell'infinito queste cose sono indifferenti beh sì il sant'uffizio non era felice no che nell'infinito l'uomo e la formica siano il medesimo non gli andava giù era troppo duro effettivamente era molto duro nello stesso tempo questa visione non era assolutamente un'umiliazione dell'uomo era anzi tutto il contrario era una proiezione dell'uomo nell'infinito una identificazione totale dell'uomo con l'infinito e con Dio come ora vedremo ma anche la formica certo perché anche lei è materia anche lei è matrice della vita diciamo così ecco se adesso ci siamo orientati se io mi auguro che qualche cosa sia riuscito a tradurre in maniera comprensibile passiamo dell'infinito adesso abbiamo due letture dell'infinito e poi una lettura finale che non vi dico che cos'è perché è una sorpresa allora prendiamo dell'infinito universo e mondi prendiamo il punto dove Bruno parla della gravità è già ma parla della gravità non come Newton e questo è lo straordinario capite è questo che accade con i filosofi quando i filosofi sono dei profeti sono dei maghi sono dei pensatori incredibili che hanno il coraggio di andare sin agli estremi confini del comprensibile questa non è la gravità di Galileo questa non è la gravità di Newton è già la gravità delle onde gravitazionali capite e già aver visto l'intero cosmo nell'ottica dell'infinito come certamente eravamo a quel tempo lontanissimi dal poterlo concepire e certamente Bruno non lo concepisce fisicamente da fisico voglio dire non ha le competenze ma da filosofo sì da filosofo parla con le parole della filosofia ragiona dentro le parole della filosofia e ha dell'infinito una concezione che non è certamente matematica ma che gli stessi matematici dell'ottocento per esempio a loro modo riscopriranno Cantor a suo modo riscoprirà un infinito di senso bruniano diciamo così ma allora vediamo intanto il primo passaggio dove la gravità compare e non soltanto la gravità abbiate pazienza naturalmente sappiamo che la lingua non è semplicissima io cerco di leggere ad agio diciamo che in quel modo con cui in questo universal spaccio spaccio e spazio insomma alla napoletana che in questo universal spaccio infinito la nostra terra versa circa questa regione cioè circa vuol dire intorno a questa regione e occupa questa parte nel ventesimo tempo gli altri astri occupano le sue parti le loro parti e versano circa le sue regioni nell'immenso campo allora comincia a vedere questa rotazione universale come ruota la terra così ruotano tutti i corpi celesti nell'infinito spazio nell'infinito campo vedete che questo riferimento al campo di nuovo è stupefacente ove come questa terra costa di suoi membri alle sue alterazioni e a flusso e reflusso nelle sue parti come veggiamo accadere negli animali che hanno umori e parti le quali sono in continua alterazione e movimento così gli altri asti gli altri astri costano di suoi similmente affetti membri membri affetti cioè membri che hanno delle affezioni quindi sta proiettando nell'universo spazio in tutti i corpi del mondo le stesse condizioni di vita che noi sperimentiamo qui sulla terra e siccome questa terra naturalmente si muovendo secondo tutta la macchina muovendosi secondo tutta la macchina del cosmo bellissima questa espressione siccome la terra si muove in armonia con tutta la macchina del cosmo non ha moto se non simile al circolare con cui si svolge circa il proprio centro non ha altro movimento che questo della circolazione in se stessa e discorre intorno al sole questo è copernico e discorre intorno al sole così necessariamente quegli altri corpi che sono di medesima natura ecco ma voi dovete immaginare sforzarvi di immaginare che queste proposizioni erano inconcepibili al tempo di Bruno in cui la concezione normale di tutti coloro che avevano una cultura era quella aristotelico-tolemaica insomma no? e mai più si poteva pensare che quello che vediamo noi la notte che brilla nel cielo fossero corpi come la terra fossero corpi come il sole fossero corpi come la luna che giravano e circolavano esattamente come noi sappiamo che circoliamo per dare la notte il dì eccetera eccetera era una visione da pazzi era una visione assolutamente inconcepibile dove lui parla delle parti di quella terra che chiamiamo luna con le sue acque immagina l'acqua sulla luna la immagina come fosse la terra ma questo moto circolare che è nel centro della sua mole o rotondità o gravità ecco che appare la gravità cioè il moto gira intorno a se stesso in funzione di una sua gravità di un suo peso di una sua materia che è grave e la gravità di tutte le materie di cui sono fatti tutti i corpi sono e questa è un'intuizione incredibile sono la ragione della macchina newton ma al di là di newton come vedremo quindi è il peso che la materia la consistenza che la materia fornisce a tutti i corpi ciò che fa sì che tutti i corpi circolino in se stessi intorno a se stessi e intorno ad altri corpi e tutti i corpi così intorno ad altri corpi ad altri ancora e tutti nella macchina dell'universo che nella gravità ha il suo centro diciamo così il suo punto di riferimento quindi è nel centro il moto circolare che è nel centro della sua mole o rotundità o gravità così il giù di quella terra non è alcun luogo extra di quello ma il suo proprio mezzo il suo proprio suo centro così ogni terra ha il suo centro in questa gravità il su di questa terra è tutto quello che è nella sua circonferenza è fuori della sua circonferenza però così violentemente le parti di quelle si muovono extra la sua circonferenza e naturalmente si accogliono verso il proprio centro come le parti di questa violentemente si dipartono e naturalmente tornano verso il proprio mezzo lo vedete il movimento sfuggo dal mio centro ma solo per ritornarvi perché la gravità per così dire mi lancia e mi riprende la gravità mi fa trascorrere discorrere come dice lui ma le parti che mi buttano fuori sono quelle stesse che poi ritornano al centro e questo da per tutto e questa è la macchina la macchina dell'universo e adesso passiamo alla seconda di quelle citazioni che volevo farvi cioè lo spazio immenso e l'infinito motore e questo forse è un pochettino più complicato abbiate pazienza allora prendiamolo di qui sta parlando il protagonista del dialogo quello che è dà la voce a Bruno stesso diciamo così che Bruno chiama Filoteo dice Filoteo non bisogna dunque cercare se estra il cielo se fuori nel cielo se oltre il cielo sia loco vacuo ossia tempo perché uno è il loco generale quindi fuori dell'universo non c'è luogo alcuno fuori dell'universo non c'è tempo alcuno perché tutto è nel luogo generale uno unico uno il spazio immenso che chiamar possiamo liberamente vacuo uno lo spazio immenso dove stanno tutte le cose che contenente di tutte le cose possiamo chiamare vacuo in cui sono innumerabili ed infiniti globi come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi più chiaro di così ma questa era un'eresia terribile era un'eresia assolutamente inconcepibile quindi in questo uno spazio sono infiniti globi infinite terre ancora non lo sappiamo con certezza ma statisticamente è impossibile che non sia così sapete che ci sono calcoli statistici per quello che può valere un calcolo statistico ma di fronte a miliardi di miliardi di pianeti simili al nostro è impossibile che non ce ne sia almeno uno che ha una vita così come la conosciamo su questa terra quindi in cui sono innumerabili di infiniti globi come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi vivemo e vegetamo vegetamo vuol dire che abbiamo una vita animale e una vita vegetativa sta dicendo con tal spazio lo diciamo infinito perché non è ragione convenienza possibilità senso natura che debba finirlo lo diciamo infinito perché non c'è nulla che possa finirlo dove sarà se non di nuovo nello spazio infinito eccetera in esso sono infiniti mondi simili a questo e non differenti in genere da questo perché non è ragione né difetto di facoltà naturale dico tanto potenza passiva quanto attiva per la quale come in questo spaccio circa noi ne sono medesimamente non ne siene in tutto l'altro spaccio che di natura non è differente e non è altro da questo e questo è pronto il principio cosmologico universale che noi dobbiamo a Bruno la intuizione che noi dappertutto ritroviamo quello che c'è qui che noi dappertutto ritroviamo la stessa anima e la stessa materia lo stesso spirito e lo stesso corpo la stessa materia originaria che è lo stesso dio come poi lui anche più volte lo chiamo riprendiamoli in un altro punto estra dunque l'immaginata circonferenza è tempo perché vi è la misura e ragione di moto perché vi sono dei simili corpi mobili c'è tempo in quanto i corpi sono mobili non c'è tempo nell'uno come sappiamo il contenente universale non può aver tempo ce l'ha dentro nelle relazioni di gravitazione dei vari corpi potremmo dire questo sembra Einstein forse io sto esagerando un pochino ma l'immagine è questa cioè c'è tempo perché ogni globo muovendosi intorno a se stessa e intorno ad altro determina rispetto a tutti gli altri e lo vedremo una relazione che si può misurare che è misurabile che è un movimento di misura reciproca diciamo così perché vi sono dei simili corpi mobili e questo sia parte supposta parte proposta circa quello che avete detto per la prima ragione dell'unità del mondo si riferisce al suo interlocutore dice questo vi spiega la ragione dell'unità del mondo quanto a quello che secondariamente dicevate vi dico che veramente è un primo e principe motore che c'è un'unità del mondo e c'è un unico principe principe dice lui motore atto creatore che mette in movimento il mondo ma non talmente primo attenzione e principe che per certa scala per il secondo terzo ed altri da quello si possa discernere numerando al mezzano ed ultimo atteso che tali motori non sono e non possono essere dopo spiego perché dove è numero infinito ivi non è grado né ordine numerale benché sia in grado ed ordine secondo la ragione e dignità o delle diverse specie e geni o dei diversi gradi in medesimo genere e medesima specie cosa sta dicendo abbiate pazienza la filosofia talvolta è difficile allora sta dicendo una cosa in realtà molto semplice c'è un motore principe c'è un motore che muove tutto ma dice attenzione perché qui ce l'ha con Aristotele per questo che non capiamo che non è facile capire lui ce l'ha con Aristotele cioè col primo motore l'immagine di Aristotele è c'è Dio da Dio si muove il primo motore che è il primo grande cielo diciamo così il primo motore muove i cieli secondo terzo quarto quinto finché arriviamo al cielo della luna e ficcati nel centro di questo universo la nostra oscura terra ecco lui sta dicendo è vero che c'è un principe motore ovviamente è l'anima del mondo è la materia stessa ma non possiamo distinguere un primo un secondo un terzo un quarto non si tratta assolutamente di questo di che cosa si tratta dice che ognuna delle cose che si muovono non è in un ordine numerale primo secondo terzo quarto ma è secondo la ragione e la dignità delle differenti specie e dei differenti generi dei differenti generi cioè la luna non è la terra anche se è fatta come la terra di terra la terra non è il sole anche se è fatta di materia come il sole ognuno quindi si muove in base al principio motore generale secondo la sua specie materiale si potrebbe ben dire secondo la sua specie materiale e il genere che lo caratterizza è un pianeta è una stella è una stella morta è una stella è un buco nero diremmo noi oggi cioè ognuno nello spazio ha la sua gravità e in base a questa gravità riceve il movimento del principio universale che tutto muove del principio universale che tutto muove e quindi ogni cosa si muove localmente in base alla sua partecipazione del movimento universale ma come dire caratterizzata dal luogo dalla specie dal genere che sono propri di quel luogo di quella località dell'infinito di quella località del tutto ora lo spiegherà meglio ci sono dunque infiniti motori e adesso cominciamo a capire uno è il principe ma infiniti sono i motori entro i quali si articola il principe diciamo così un motore è questo qui la mia mano anche questo è un motore anche questo fa parte del principe è animato è la mia materia animata ma naturalmente secondo la sua caratteristica secondo il suo luogo preciso sono dunque infiniti i motori così come sono anime infinite di queste infinite spere le quali perché sono forme e atti intrinseci in rispetto dei quali tutti è un principe da cui tutti dipendono è un primo il quale dona la virtù della motività agli spiriti anime dei numi motori e dona la mobilità alla materia al corpo all'animato alla natura inferiore al mobile allora tutti sono atti intrinseci e in quanto sono tutti atti intrinseci sono tutti partecipi del principio universale della motilità universale che penetra dappertutto e nello stesso tempo però questa mobilità della materia del corpo è in una correlazione continua con le altre materie con gli altri corpi con gli altri principi intrinseci come dice qui sono dunque infiniti i mobili e i motori li quali tutti si riducono a un principio passivo e un principio attivo ecco che ci siamo sono infiniti i movimenti tutti si riducono ai due poli che dicemmo della causa la materia e lo spirito tutte le cose sono materia e spirito la materia in quanto riceve il movimento rigenerandolo in sé lo spirito in quanto questa materia che rigenera il movimento la mette in relazione con tutti i movimenti la compenetra assieme a tutti gli altri e ora lo dirà principio passivo un principio attivo come ogni numero si riduce all'unità e l'infinito numero l'unità coincidono questo è un esempio bellissimo sta dicendo che tutte le parti sono in movimento nel loro intrinseco movimento che caratterizza il loro corpo e quindi la materia che costituisce questo corpo è il principio attivo che la muove tutti sono quatti così ma tutti partecipano dell'unico movimento dell'infinito dell'unica motilità generale che è il principe il principio del tutto che è il principio stesso del movimento di ogni parte così come tutti i numeri sono nell'uno e sono uno essendo tutti i numeri uno più uno più uno più uno in infinito sicché sono tutti diversi due tre quattro cinque no? è tutto il medesimo è tutto il medesimo uno che si specifica che si moltiplica senza moltiplicarsi si potrebbe dire che si muove immobile ricordate l'universo è immobile immobile nel suo movimento nel suo infinito movimento ma capite che cosa vede questa mente immobile nel suo infinito movimento molteplice nella sua eterna unità lo rileggo sono dunque infiniti mobili e motori li quali tutti si riducono a un principio passivo e un principio attivo come ogni numero si riduce all'unità e l'infinito numero e l'unità coincidono l'infinità dei numeri e l'unità coincidono e il numero agente è potente fare il tutto con il possibile esser fatto il tutto coincidono in uno come mostrato nella finale del libro della causa principio et uno e il tutto possibile come ciò che può essere fatto e il tutto agente come ciò che fa si uniscono in un'unica causa che penetra dappertutto come è già stato detto della causa principio ed uno in numero dunque e moltitudine è infinito mobile e infinito movente dunque abbiamo un infinito mobile e un infinito movente mobili sono tutte queste cose che infatti sono in movimento è infinito il movente che le muove quella unità di infinito movente ma nell'unità e singolarità è infinito immobile motore infinito immobile universo e questo infinito numero e magnitudine e quella infinita unità e semplicità coincidono in uno semplicissimo ed individuo principio vero ente tutte le infinite vestigia del mondo tutti gli infiniti specchi aveva detto in cui ci rispecchiamo reciprocamente perché non è più la luna terra a noi che noi alla luna come dice nel primo dialogo che abbiamo letto all'inizio nella cena delle ceneri così accade qui qui noi in ultimo siamo nella semplicità dell'unico ente che è fatto di infiniti enti e che in tutti infiniti enti ripete come uno specchio come uno specchio messo all'infinito come guardare in uno specchio e dietro c'è un altro specchio c'è una fuga infinita di immagini nei due specchi così è qui l'infinita attività l'infinita passività l'infinita spiritualità dell'universo l'infinita materialità dell'universo sono questa replicazione infinita nell'uno nell'unico specchio eterno diciamo così della vita eterna così non è un primo mobile il quale con certo ordine con certo ordine succeda al secondo insino all'ultimo oppure in infinito ma tutti gli mobili sono ugualmente prossimi e lontani al primo eh già tutti i mobili tutti i corpi tutte le lune tutte le terre tutti i soli sono infinitamente vicini all'infinito come abbiamo detto prima la formica e l'uomo non è che sono diversi sono tutti differenziati e prossimi cioè tutti nella medesima condizione di eternità tutti nella medesima condizione di particolarità tutti gli mobili sono ugualmente prossimi e lontani al primo e dal primo e universal motore come logicamente parlando tutte le specie hanno uguale ragione nel medesimo genere tutti gli individui alla medesima specie così da un motore universale infinito in uno spazio infinito e un moto universale infinito da cui dipendono infiniti mobili e infiniti motori dei quali ciascuno è finito di mole ed efficacia dei quali ciascuno ha la sua mole la sua gravità la sua efficacia particolare nel coro universale di tutte le quantità di tutte le qualità di tutte le gravità eccetera eccetera in questa visione no? in cui ogni individuo della specie umana è un individuo della specie umana è l'uomo e ogni specie naturale appartiene al genere è un quadrupede è un bipede è un animale eccetera eccetera dappertutto l'unità dappertutto la difformità la divisione dappertutto la correlazione in ogni punto dell'universo sta tutto ma il tutto che sta in ogni punto dell'universo sta anche nella differenza di ogni punto tanto che si potrebbe dire è a partire da questa terra che vediamo l'unità dell'universo nella particolarità di questa terra ecco se abbiamo capito queste difficili cose allora adesso come vi promettevo vi leggo una cosetta che non ha niente a che fare con Bruno ma è un libretto che ha avuto una grande fortuna che ha venduto un sacco di copie e che effettivamente ha il merito di essere una esposizione della fisica contemporanea molto accessibile molto ben fatto di Carlo Rovelli sette brevi lezioni di fisica della Adelphi sentite cosa dice questo fisico che spiega la fisica dei nostri giorni dice in una quinta lezione che intitola grani di spazio nonostante oscurità in eleganza e questioni ancora aperte le teorie fisiche che ho raccontato descrivono il mondo meglio di quanto sia mai avvenuto in passato indubbiamente è così dovremmo dunque essere abbastanza contenti ma non lo siamo c'è una situazione paradossale al centro della nostra conoscenza del mondo fisico il novecento ci ha lasciato le due gemme di cui ho parlato la relatività generale e la meccanica quantistica due grandi dottrine sulla prima sono cresciute la cosmologia l'astrofisica lo studio delle onde gravitazionali dei buchi neri e molto altro la seconda è diventata la base della fisica atomica della fisica nucleare della fisica delle particelle elementari della fisica della materia condensata e di molto altro due teorie prodighe di doni e fondamentali per la tecnologia moderna odierna che hanno cambiato il nostro modo di vivere eppure le due teorie non possono essere entrambe giuste almeno nella loro forma attuale perché si contraddicono l'un l'altra Bruno direbbe e ti stupisci l'avevo già detto nella causa principio et uno che se tu cominci a lavorare con l'infinito ti devi contraddire non puoi più pensarla secondo la logica tradizionale aristotelica o non aristotelica ma comunque la logica del giudizio semplice a e b no dobbiamo entrare in un'altra dimensione del pensiero e continua uno studente universitario che assista alle lezioni di relatività generale il mattino e a quelle di meccanica quantistica il pomeriggio non può che concludere che i professori sono citrulli o hanno dimenticato di parlarsi da un secolo gli stanno insegnando due immagini del mondo in completa contraddizione la mattina il mondo è uno spazio curvo dove tutto è continuo il pomeriggio il mondo è uno spazio piatto dove saltano quanti di energia già già ha ragione per carità le cose stanno così ma stanno anche in un altro modo vi ricordo come ha definito vi ricordate che Bruno usa l'immagine del campo il campo per comprendere come ogni corpo celeste a partire da sé costituisca l'altro dell'altro e ci sia una reciprocità nella quale non c'è un punto di vista privilegiato il punto di vista privilegiato è il tutto ma il tutto non è un punto di vista il tutto è il tutto immobile eterno è dentro questo tutto che ognuno è in relazione con l'altro e stabilisce la gravità sua rispetto alla gravità dell'altro la consistenza sua l'ubiquità sua rispetto alla buiquità dell'altro creando un campo di relazioni infinite dove ognuno ogni parte ricostituisce il campo a partire da sé questo è chiarissimo nella immagine di Bruno difficile da apprendere nel suo linguaggio ma questo noi abbiamo letto beh adesso vi leggo una definizione di campo semplicemente una definizione fisica quella di Faraday e Maxwell no? il campo ha una pervasività che si estende a tutto l'universo oh beh guarda a partire da un picco di intensità locale da un picco quindi a partire dalla terra il campo si estende in tutto l'universo il campo terreno eccetera eccetera abbiamo quindi una interdipendenza dagli e con gli oggetti che lo abitano stelle pianeti o anche piccole particelle c'è una interdipendenza dove sei tu? e beh devo dire intanto dove sono io come facciamo col telefonino dove sei? ma bisogna stabilire chi chiede e chi risponde no? perché le due cose si rispecchiano non sono in uno spazio assoluto capite? sono in un movimento assoluto in una relazione assoluta con la loro interrelazione con la loro interrelazione queste particelle oggetti stelle pianeti quello che sia generano il campo e sono interni a questo campo come se fossero essi stessi il campo ma è quello che ha detto Bruno è come se la terra qui fosse l'universo perché è nell'universo certamente è nel movimento dell'universo ma è a partire da lei che si creano tutte le relazioni come tutte le relazioni si creano mettendo la terra in relazione a quelle relazioni e tutte quante insieme fanno il campo che quindi sta il campo non è un'altra cosa sta in ognuna in relazione con tutte e tutte in relazione con ognuna provate a pensare che noi siamo qui tutti uno per uno in relazione con ognuno e certo non ci parliamo ma è così noi siamo un campo un campo di relazioni ognuno in questo momento sta prendendo le mie parole a modo suo giustamente a modo suo e naturalmente se me lo dicesse influerebbe sulle mie io dovrei tenere conto di come lui le ha considerate no? e infine oggetto entità sostanza separate sono nozioni che entrano in crisi eh già non si può più dire questo libro lo diciamo per comodità ma questo libro sta su un altro libro che sta su una tavola che sta su un podio che sta su dentro uno spazio che sta assieme a tutte le nostre persone che sono qua solo così è questo libro nella infinità delle sue relazioni e delle sue implicazioni diciamo così no? e finalmente unità e molteplicità sono uniche unite e il vecchio concetto di realtà va a farsi benedire e già unità e molteplicità sono uniche unite come abbiamo letto no? uno è il tutto della molteplicità correlativa correlazionale che continuamente si muove verso e appresso e da quello e con quello e ognuno può stabilire la sua mappa dire dov'è solo dicendo il campo cioè dove sono tutti gli altri ma questo vale anche per tutti gli altri rispetto a lui e riuscire a pensare l'universo così fatto certamente è assolutamente lontanissimo dal nostro linguaggio comune che è un linguaggio tolemaico ovviamente no? è un linguaggio ancora è un pensiero ovviamente tolemaico e forse noi non avremo mai altro linguaggio che quello tolemaico però possiamo sforzarci dentro questo linguaggio tolemaico a pensare copernicanamente bene per concludere vi leggo l'ultima pagina del nostro Carlo Rovelli che è bella dice la natura la natura è la nostra casa e nella natura siamo a casa questo mondo strano vario pinto e stupefacente che esploriamo dove lo spazio si sgrana il tempo non esiste sembra Bruno e le cose possono non essere in alcun luogo non è qualcosa che ci allontana da noi è solo ciò che la nostra naturale curiosità ci mostra della nostra casa della trama di cui siamo fatti noi stessi noi siamo fatti della stessa polvere di stelle già della stessa materia di cui sono fatte le cose e sia quando siamo immersi nel dolore sia quando ridiamo e risplende la gioia non facciamo che essere quello che non possiamo che essere una parte del nostro mondo Lucrezio lo dice con parole meravigliose e cita questi versi del Dererum Nature siamo tutti dati dal seme celeste tutti abbiamo lo stesso padre da cui la terra la madre che ci alimenta riceve limpide gocce di pioggia e quindi produce il luminoso frumento e gli alberi rigogliosi e la razza umana e le stirpi delle fiere offrendo i cibi con cui tutti nutrono i corpi per condurre una vita dolce e generare la prole grazie della vostra pazienza grazie grazie